A tutti, sesto appuntamento di Sacra Musica. A tutti, sesto appuntamento di Sacra Musica. Piano forte classico, piano forte jazz, direzione d'orchestra, con grandi maestri italiani ed internazionali. È ormai un affermato compositore sia per musica applicata e musica da film che di musica contemporanea. È un'interessante didatta per quanto riguarda sempre la musica applicata, ma non solo, diciamo, la musica del Novecento e del Duemila. Ha formato diversi gruppi, ha potuto esprimersi in diverse forme artistiche e in diversi generi. Ha anche musica minimalista, musica contemporanea più elaborata. Ha perfettamente in mente, diciamo, chiara in mente l'idea della musica nella sua espressione più concreta. Cioè il fare musicale, il compositore come artigiano, il compositore che ha sia la capacità di adeguare la propria attività artistica ad altre forme espressiva, appunto come succede nel cinema, quindi la composizione per immagini, e sa ovviamente cercare, ricercare, analizzare anche la propria interiorità, il proprio vissuto esperienziale, della propria espressione intima della musica, che lo rende, diciamo, un musicista in questo caso a tutto tondo, perché conosce diversi aspetti del lavoro del musicista, il lavoro del musicista in questo periodo, e quindi abbiamo parlato con lui della sua visione artistica, ma anche cercando di strapparle, diciamo, dei ragionamenti un po' più astratti, cercando di portarlo un po' fuori da quello che è invece la sua attività principale, cioè quella del lavorare con la musica, della composizione, nel senso più concreto possibile, e abbiamo parlato anche della differenza culturale che ci può essere fra un paese come l'Italia e l'Inghilterra, e la differenza, il diverso modo di ragionare sulla musica, la pragmaticità anglosassone, e l'essere, diciamo, molto concreti, a differenza di chi come me è molto poco concreto, e cerca invece di speculare su qualsiasi cosa. Quindi ho il piacere di presentarvi Dimitri Scarlato. Buongiorno, Dimitri Scarlato. Buongiorno. Da Londra ci risponde al nostro progetto sull'individuare quali sono gli elementi sacri nella musica, e qual è il lavoro del musicista in questa fase anche pandemica. Inizio subito con la prima domanda, se per te va bene. Hai mai avuto esperienze di tipo spirituale, mistico, o di temporaneo distacco dalla realtà durante una tua esecuzione musicale, privata o pubblica? Non vanno inaspettata. L'esperienza spirituale forse è un tema un po' forte, però forse sì, l'esperienza di distacco, sì. Sì, probabilmente quando ho ascoltato la prima volta le prove con l'orchestra in teatro di una mia opera che è stata eseguita a Roma nel 2013 al Teatro Olimpico, Fadua. C'era un passaggio che era una scena dell'opera in cui c'è una preghiera tra il protagonista che è un padre musulmano e la figlia che sono entrambi, sono trasferiti in Italia, nella preghiera. Si chiama la preghiera, in realtà sarebbe un dialogo che loro hanno personalmente con Allah, con il loro Dio, in cui chiedono cose differenti. Si vede l'impronta del padre che è ancora radicato nella sua cultura e non vuole integrarsi e quella della figlia che invece chiede il perdono per il padre che non vuole integrarsi. Siccome era una scena che mi aveva anche emozionato durante la scrittura, quando poi l'ho finalmente ascoltata dal vivo con l'orchestra nel teatro, messa in scena, insomma, fu un momento forse quello di distacco in cuore collegato, oltre che emozionante. Sì, diciamo che la domanda riguardava appunto anche stati non prettamente ricollegabili a misticismo religioso e anche proprio come esperienza di... sai quando a volte suoni a lungo e ti perdi un pochettino, ti scordi del tempo, no? Questo tipo di esperienze. E appunto questa esperienza che hai descritto quindi l'hai avuta da ascoltatore, non da... mentre stavi eseguendo una musica, no? Ascoltavi però la tua produzione. Ascoltatore, sì, perché alla fine il mio percorso è iniziato anche da esecutore, anche se non di musica classica. Però poi negli ultimi anni, dici anni, insomma, si è sviluppato sempre di più, specialmente quando mi sono trasferito a Londra, nel percorso di... diciamo, dietro le quinte di compositore. Forse è un'esperienza simile, no? Ce l'ho avuta anche quando... insomma, quando eseguo ogni tanto il mio progetto, si chiama Colors, che è un progetto in trio, pianoporto di broncello, piece armonica, un altro stile musicale, un po' più sul filone, John Johansson, Enaudi, Wim Mertens. E sì, in alcuni momenti, specialmente, insomma, eseguendo un brano specifico, ci sono momenti in cui vado un po' di estasi, nel senso, per citare Eisenstein, ecstasis, Eisenstein è il teorico russo del cinema, che parla di ecstasis come un salto, un'altra dimensione, a livello superiore. E questo salto, diciamo, che fa parte, è una costante nella tua attività da strumentista, da esegutore, da musicista? Molto raramente, devo dire. Nel senso... Prima di tutto perché, ripeto, insomma, sono rare le volte in cui suono in confronto a quando compongo. Più che salto è statico, ho una scossa emozionale, forse, posso definirla. Cioè, un momento in cui, o quando improvviso per comporre, o quando ascolto certa musica, o quando in un momento compositivo raggiungo un livello di cui magari sono soddisfatto, c'è una soluzione musicale che mi soddisfa, a quel punto sento più che un momento di estesi o di trance, più un momento di coinvolgimento emotivo, un forte coinvolgimento emotivo che sento che attraversa tutto il corpo. Nella tua musica, invece, come compositore, hai visto che il tuo ambito compositivo, da quello che ho capito, spazia la musica per film, quindi funzionale, narrativa, che segue anche una linea precisa di narrazione visiva, che quindi deve adeguarsi di volta in volta, fino ad una musica, diciamo, più creativa, più libera, ma insomma ha poco significato questo termine. In questo senso, però, diciamo, musica è composta per la tua, diciamo, ricalca il tuo moto emotivo interiore. In questa produzione, diciamo, non hai mai cercato di indurre l'ascoltatore in questo stato di sospensione, di stacco, salto, mistico? No, sicuramente sì. Sicuramente sì. Per esempio, cioè, cerco di indurre certe emozioni, quello sì, cioè che ci sono momenti in cui cerco il passaggio che sia emozionante, specialmente quando faccio, appunto, musica non classica contemporanea, come la intendiamo noi in Italia, ma quando faccio, appunto, musica applicata, che, insomma, cerco di aiutare la narrazione della storia, come tu ne hai scritto, o quando scrivo progetti miei proprio indipendenti, come questo di Colors, questo album di cui ti ho parlato. In quel caso, lì, il mio percorso è proprio, è un momento in cui ho la libertà, mi ritengo libero da tutto, e quindi scrivo quello che voglio, però cerco anche di far sì che certe emozioni vengano rasmesse anche poi a un pubblico che le ascolta. E devo dire che con Colors, penso proprio di esserci riuscito, perché molte persone che l'hanno ascoltata dal vivo hanno detto, insomma, che è come un viaggio che ti prende e ti coinvolge. E in questa tua produzione, diciamo, e nella tua formazione, non ci sono elementi legati allo studio, alla pratica della musica, anche liturgica, o lo studio della musica sacra, nel senso cattolico, e se ci sono invece delle relazioni con altre religioni? No, assolutamente no. Non c'è un interesse, ma non c'è nessuno studio specifico. Anche nella tua fase di formazione, a volte succede, no? No, perché nella fase di formazione, noi, diciamo, avendo studiato a Roma, c'erano due classi di canto corale. Una, diciamo, standard, e poi c'era una con il maestro, se non sbaglio, dall'albero, che era un esperto di musica religiosa, specialmente del 500-600, e io non capirai in quella classe, quindi non ho mai studiato approfonditamente quel repertorio. Insomma, mi affascina, però non è mai capitato che l'ho abbia dovuto studiare. L'unica esperienza che ho, forse è proprio brevissima, adesso è quando ho avuto una commissione, quest'anno, per il coro di stato bulgaro, e scusatemi, il coro di state ungrese, mi hanno commissionato un brano di Dante, perché è l'anniversario della morte di Dante quest'anno, e di conseguenza ho scelto un passo dall'ottavo canto del purgatorio, se non ricordo bene, se non ricordo male, in cui mi era anche citato da Dante, quando i viandanti cominciano a cantare Telucis Ante, che era un salmo che cantavano, e quindi quella è stata, diciamo, la mia esperienza recente, in cui ho guardato un po' come incominciava, però non ho fatto sui doppi, ho cercato di rincorporarlo all'interno del mio brano. quindi veramente sporadici. Un'altra domanda che ti voglio fare è riferita a un'estetica ormai molto distante che è quella dell'antica Grecia, in cui le forme artistiche non erano nettamente divise tra loro, così come non erano scisse le pratiche religiose, quelle espressive, artistiche, poetiche. C'è traccia di questa di questo tentativo di riunire le pratiche espressive, nel tuo caso potremmo immaginare appunto la musica da film, in cui si riuniscono le diverse arti che in passato costruivano proprio il termine della musiché, cioè della tecnica delle muse, quindi la poesia, ma anche all'astronomia a certe volte, ci sono questi elementi nella tua musica o nella tua idea di musica? Sì, nel senso io ho sempre, vabbè, penso già al fatto che io voglio lavorare o lavori con la musica applicata perché sento la necessità di, no, nel senso la necessità mi piace molto collegare il mio lavoro ad un'altra disciplina artistica, anche il progetto di Colors inizialmente era nato con la collaborazione con un video artista, poi dopo per questioni di budget ho dovuto ripensare ho collaborato con una poetessa quindi su alcuni testi che ha scritto anche il fatto che mi piace molto lavorare con la voce e con l'opera e proprio che insomma mi piace lavorare sul testo io direi che più che cercare di far confluire varie discipline io penso che nel mio lavoro e questo si applica anche quando scrivo musica classica contemporanea quindi un brano astratto io ho sempre bisogno di una linea drammatica di una specifica drammaturgia e nel caso di un testo o nel caso delle immagini questo aiuta ma quando compongo musica invece diciamo scevra da qualsiasi collegamento o un'altra disciplina io nella mia testa immagino però un filone a cui agganciarmi un'idea narrativa per agganciarmi ad esempio un altro brano che ho composto che si chiama Limbo è un brano per l'orchestra d'archi un brano ovviamente esclusivamente in 13 minuti soltanto per l'orchestra d'archi di musica diciamo appunto classica contemporanea però anche lì mi sono ispirato a un libro che era una raccolta di testimonianze dei cittadini europei dopo Brexit e diciamo che questa l'idea perché poi non è che ho raccontato delle storie ho soltanto preso spunto da questo testo e dalla vasta gamma di emozioni che hanno attraversato questi cittadini e ho cercato poi di tramutarlo in un percorso narrativo nel mio brano quindi da quello che capisco diciamo che la testa a cuore un approccio che potremmo dire narrativo cioè che poi vuol dire semplicemente che con la musica vuoi condurre per mano comunque l'ascoltatore cioè non lo abbandoni a se stesso non lo lasci ai possibili interpretazioni che riguardano altri ambiti come può succedere in tanta musica in realtà del novecento del novecento nemmeno tanto recente già nel senso se io penso a Satie o a dei brani appunto di ma anche volendo di Stravinsky che in alcuni casi o comunque se poi parliamo di Schenberg o di altri musicisti di ormai un secolo un secolo fa che l'ascoltatore non lo aiutavano particolarmente oppure aiutavano in altre maniere cioè Satie dava quelle indicazioni all'esecutore però l'ascoltatore e stiamo parlando di Satie che è facilmente ascoltabile quindi tu ritieni che l'ascoltatore debba essere un pochettino seguito condotto non lo so forse è l'espressione giusta perché è più un discorso personale nel senso è più un processo compositivo dove vedo necessito di un percorso narrativo nella mia testa poi dopo se l'ascoltatore lo aiuta come il progetto come ti ho detto di Colors ben venga in altri casi non sempre diciamo il mio percorso narrativo corrisponde o può facilitare l'ascolto l'ascolto insomma del pubblico però sicuramente sono mentre in un discorso di musica applicata sei costretto a diciamo aiutare l'ascoltatore o comunque a cioè l'automusica non è indipendente l'automusica è scritta congiuntamente anche alle necessità del regista alla sua volontà narrativa poi ovviamente il compositore abbiamo anche esempi famosi come Bernard Hermann Hitchcock il compositore anche può indirizzare però c'è sempre non è un progetto indipendente del compositore la volontà finale anche quello che vuole comunicare il regista nel caso invece di musica da concerto o progetti indipendenti sì il compositore può farsi la domanda in base anche all'ascolto del pubblico il discorso secondo me va un po' più a ritroso è se noi scriviamo perché vogliamo scrivere o se scriviamo perché vogliamo anche che un pubblico ci ascolti e che reazione abbia questo pubblico questo penso sia un po' una domanda esistenziale anche per molti compositori anche perché un pubblico si educa e se l'educazione musicale negli ultimi 50 anni è stata principalmente basata su musica più accessibile musica leggera e se quelli sono metri di termini paragone per far sì che un pubblico lo ascolti allora il compositore anche colui che fa ricerca sembrava in estrema difficoltà perché secondo me gli esempi che mi ha portato appartengono comunque al periodo storico in cui c'era più forse insomma più educazione musicale nel senso che non essendoci già la nascita della musica pop come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni 60 anni c'era sicuramente la musica popolare però la sala da concerto era era il posto dove si ascoltava la musica insomma le aree nelle famiglie si suonavano le aree da opere o comunque si suonavano magari tembrani di musica classica sì anche quello appartiene a una certa categoria di persone che si potevano permettere però diciamo c'era un differente approccio rispetto alla musica diciamo classica dell'epoca quindi sono un po' quei compositori hanno anche non dico facilitati però non si trovavano a dover districarsi nella vasta landa di generi di cui viviamo oggi e anche della mancanza di un'appropriata educazione musicale che o è specifica da parte degli addetti al mestiere o da quelli poche persone sono veramente interessati oppure il pubblico può non capire cioè il discorso è un po' più complesso forse lo sto banalizzando però io ad esempio vent'anni fa non capivo non apprezzavo certi brani di Schenberg o o di Stockhausen o di Berio ma e poi avendo fatto un percorso anche personale insomma didattico e adesso non non vedo queste queste difficoltà e rimango e per me un termine di paragone anche quando insegno e come ti ho detto un sogno i corsi anche di musica contemporanea a studenti che sono musicisti che cominciano il primo anno dell'università e vedo come per loro certi brani che per me magari sono veramente accessibili e per loro diventano molto impegnativi e quindi io la capisco anche lì anche nella musica c'è c'è un discorso di di preparazione che ti aiuta a condurti nell'ascolto quindi la domanda che si fa poi al compositore oggi nel 2020 è scrivo questo brano a chi è rivolto e secondo me lì ti devi fare delle domande su come viene ricevuto dall'ascoltatore e lavorando in vari settori la mia domanda diciamo modula a seconda del lavoro che sto facendo questo è un nucleo centrale diciamo dell'intervista è l'ultima intervista con Elio Martuscello è riuscito a fare questo discorso sulla formazione del pubblico perché da poco avevo letto alcune cose di Paul Indemith che scriveva proprio negli anni venti appunto sempre un secolo fa lui anche particolarmente giovane diceva bisogna costruire un nuovo pubblico bisogna formarlo informarlo cioè te lo devi te lo devi costruire non ti puoi aspettare dall'oggi al domani che possa seguire le enormi evoluzioni che ci sono stati ci sono state nella musica e mi viene da pensare anche a Britain che un po' più tardi scriveva Young Person Guide to the Orchestra che comunque sono così come Prokofiev per dire di Pierino e Lupo questo discorso della della narrazione della 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 drammaturgia che in alcuni casi come dicevi tu viene anche demonizzato però è diciamo uno dei tanti modi per per creare un un feedback con con l'ascoltatore ci sono ci sono ti voglio portare un altro esempio ripeto quando io ho insegnato nelle scuole superiori britanniche quando dai 16 18 anni si prendi musica c'era uno dei brani che dovevi studiare che poi ruotano ogni anno era la sequenza di bere per voce quando io immagino che c'è una classe in cui nella diciamo periferia di Londra quindi non diciamo la borghesia londinese per fare un paragone per Roma forse non voglio essere insultati su un partiere di Roma che non è quello che è però magari se ti allontani verso la Casidina o verso la Prenestina adesso non ricordo non so Torbella Monaca diciamo ecco diciamo non proprio zone dove hai accesso con facilità a risorse musicali o concerti non è che cresce un ambiente in cui si parla di Bach Beethoven diciamolo così quando quindi questi ragazzi tra l'altro essendo a Londra di culture differenti uno di origine malesiana uno di origine giamaicana uno di origine turca quando all'inizio ascoltano il brano dicono che questa roba si mettono a ridere durante l'ascolto poi dopo invece li guidi gli aiuti a leggere la partitura gli spieghi una partitura che sembra complicata che è scritta in una notazione non tradizionale e lo capisci poi dopo di che l'ho portata un'amica a fare un'esecuzione al vivo abbiamo parlato anche insieme con loro e vedevi come è cambiato il loro approccio erano interessati e riuscivano a leggere la partitura e hanno avuto la possibilità di comprendere un brano che sembrava iper complicato ma in realtà è soltanto un differente approccio alla scrittura all'utilizzo della voce del testo quindi questo sempre per tornare sul fatto dell'educazione che poi non è che richiede tantissimo sforzo richiederebbe soltanto un po' più di volontà da parte appunto dell'istituzione perché comunque poi riguarda anche i programmi e diciamo non fermarsi al primo alla prima soglia di di diffidenza verso qualcosa che sembra diverso e non facilmente raggiungibile il problema che abbiamo oggi è il fatto che la musica deve essere qualsiasi arte ma tutto in generale deve essere subito accessibile ed immediatamente scusami forse ti ha portato via la domanda che stavi facendo no 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 vabbè quella l'ho già dimenticata da dieci minuti fa per cui non è quello anzi no è l'argomento è quello centrale e questo percorso che si richiede che bisogna scoprire le cose che non sono già scoperte perché ognuno poi gli dà un senso scoprendole tu che hai studiato anche filosofia ha a che fare comunque con un percorso che vuole essere simile a quello noi io lo chiamo spirituale all'interno di questa intervista l'argomento come avrei potuto vedere cerca di capire quali sono ancora le tracce di spiritualità o di misticismo fra virgolette nella musica ma non perché ci devo mettere per forza dentro qualcosa di ultraterreno ma perché credo cioè ci sono anche nei tuoi discorsi degli elementi che fanno pensare a alla necessità delle persone di crescere come persone individui emotivamente anche quindi in questo senso ti ribadisco secondo te in questa formazione in questa necessità del pubblico e dei musicisti c'è qualcosa di correlabile a una ricerca del sé della propria individualità della propria crescimento della propria persona in generale ma guarda secondo me il discorso si apre su vari livelli perché se io dal mio punto di vista personale dovessi associare diciamo quello che tu definisci come spiritualità questo momento di ricerca di conoscenza di sé io l'associerei a qualcosa di inizialmente distintivo anche perché la musica è un'arte che provoca più istintiva secondo me di altre arti quindi che ti provoca un'emozione nel momento in cui tu ascolti al tempo stesso c'è anche un discorso se poi si vuole superare la diffidenza del primo approccio di qualcosa che non si capisce c'è anche il discorso della conoscenza quindi entra in gioco la razionalità quindi è vedere se la congiunzione delle due diventa non complicata ma secondo me nel momento in cui entra in gioco la nazionalità diminuisce quell'approccio emotivo istintivo che secondo me passa anche con gli anni e con lo studio perché accumuli sempre più gradi di conoscenza e a quel punto un brano che vent'anni fa ti emozionava forse dopo vent'anni non ti emoziona più proprio la prima volta insomma è anche un po' come la scoperta dei sentimenti veri e propri questo secondo me è andato di fatto nel processo diciamo musicale quanto riguarda la ricerca di sé e cioè voglio dire un'altra cosa che mi sono dimenticato era un terzo livello diciamo di di conoscenza sì ecco mi è tornato secondo me nel momento in cui tu devi fare arte qualsiasi arte o che tu suoni o che tu componga o anche che tu dipinga insomma scriva tu la tua arte è sempre te stesso cioè su questo non 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 transito cioè tu riproponi sempre le tue le tue caratteristiche come persona io per questo motivo anche quando insegno composizione cerco sempre di non deviare lo studente da ciò che è la sua natura e secondo me il percorso di un artista è come il percorso dello scultore che dalla pietra grezza tiri fuori la scultura io penso che il percorso di ogni artista forse più il compositore che l'esecutore anche se non togli che l'esecutore diciamo suoni con se stesso è quello di alla fine è un percorso di tutta la vita che tu scolpisci queste pietra grezza fino a che non trovi la tua scultura che è quello che insomma ho fatto per tanti anni e ancora faccio perché secondo me è un percorso che poi cambia come tu cambi negli anni cambia anche il tuo percorso personale artistico e quindi scopri altre cose e vai a ritoccare quella scultura che tu hai fatto e questo secondo me fa parte del percorso personale di cui tu parlavi la tua domanda insomma la ricerca di sé è quello se fai arte con una certa intenzione che non sia soltanto puramente commerciale o di piacere immediato ti poni delle domande e te le poni tutta la vita però secondo me stai soltanto scavando dentro la tua natura ok alla ricerca di una scultura nucleo diciamo che man mano per questo motivo magari certi esecutori suonano molto meglio un repertorio romantico o uno specifico repertorio romantico o piuttosto un repertorio classico così che certi esecutori insomma riescono a esprimersi al meglio in un repertorio contemporaneo o nel jazz sai mi è venuto in mente adesso un'altra associazione ho visto su facebook colleghi che commentavano Bollani che ha suonato Mozart quindi credo che Stefano Bollani abbia fatto qualche concerto ha fatto una una ho visto anch'io una alla termine del concerto quando si richiede il bis non so che cosa ha suonato in realtà prima quindi non potrei però una variazione su molto simpatica mettendo il tico tico brasiliano con con un brano di Mozart ha fatto già l'inizio subito molto variato è lì che è partita comunque la discussione in cui diciamo si parlava si stanno nella classe compagnia c'erano nei commenti anche interessanti paragoni con Jarrett ovviamente chi Jarrett diciamo è il nostro gota del jazz negli anni 80 90 e quando lui ha voluto registrare per esempio le oggi ho memoria è colpa della luna è colpa della luna no è il brano di Pac che poi ha fatto anche Glenn Gould e i concerti Brandenburg no le variazioni Goldberg le variazioni Goldberg e quindi si parlava di 24 periodi di fuga si parlava di come paradossalmente nel tentativo da jazzista di voler fare il classicista e alla fine aveva perso la suonatura swing e c'era chi diceva io ascolto molto più swing paradossalmente in una situazione di Glenn Gould che in una situazione di Jarrett qua anche l'altro discorso perché insomma è come parlare di due disciplini differenti all'interno della musica però questo è sempre per il discorso che alcune persone magari sono più portate per la loro natura ad eseguire un certo repertorio rispetto che altri quindi parlando al discorso a monte che alla fine il percorso di un musicista o di un artista è un percorso dello scavare all'interno di sé fino a che uno trova la scultura giusta quindi anche un percorso di onestà verso se stessi secondo me sì secondo me sì perché nonostante le passioni e gli amori poi ci sono delle cose per cui abbiamo una predisposizione naturale poi tu lavori per migliorare sicuramente questo non vuol dire che sei jazzista non puoi eseguire mani classici o se sei un pianistro romantico non puoi eseguire mani contemporanei e compagnia bella però se alla fine degli artisti vengono ricordati sia da punto di vista compositivo dal punto di vista esecutivo è proprio perché per una certa peculiarità nei loro lavori come si hanno trovato diciamo il proprio appunto la propria voce la propria voce la propria natura insomma secondo me è lo scavare della propria natura cioè Stravinsky ha attraversato tanti periodi artistici però secondo me un certo tratto lo riconosci sempre lo vedi che poi che c'è Stravinsky anche nei brani classici o nei brani endotecafonici certo è un vecchio esperto però secondo me cioè lo vedi che è un compositore che ricerca che si evolve però non perde parte della sua natura ok diciamo che così sempre dal punto di vista filosofico io ti cerco di portare verso la strazione è tutto un po' come dicevano gli stoici è già tutto definito è solo da scoprire è solo da 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 intuire anche o da avere questa sorta di rivelazione oppure di costruzione appunto con sommo sacrificio della propria personalità musicale anche in questo caso non ti sembra di avere a che fare con elementi eh di eh di in questo caso potrebbe essere parlare di elevazione eh questa ricerca qui cercare di elevare gli elementi superflui che sono anche quello che in molte religioni si cercava di fare ma guarda il processo parlando del mio caso insomma che non voglio interferire negli esecutori con gli esecutori il processo compositivo dal mio punto di vista personale è un processo intuitivo cioè tu hai l'intuizione è un'illuminazione dopodiché sta a te lavorare sull'intuizione eh il discorso anche di quegli studenti insomma c'è una buona idea adesso di sviluppare se invece fai soltanto una collezione di tantissime buone idee dietro ogni due battute non stai non stai lavorando quindi il lavoro del compositore sì eh che molti pensano che sia una cosa totalmente astratta in realtà non è una cosa astratta dal mio punto di vista la creatività anche quello è un muscolo che tu eserciti quindi anche il compositore come l'esegitore dovrebbe comprare tutti i giorni perché tu comunque dopo alleni il muscolo tu all'inizio hai un dal mio punto di vista hai un'intuizione poi anche parte della mia tecnica compositiva mi ricordo una volta era masterclass Corgi Azio Corgi mi disse a Siena a te ti salva l'intuizione forse non so se era in modo offensivo o no però all'epoca l'ha presi male poi dopo alla lunga penso che alla fine è vero l'intuizione mi ha salvato in molte occasioni nella nostra intervista Marco Olivieri il primo intervistato era un allievo di Azio Corgi con cui era molto molto legato e questo discorso dell'intuizione interessante dello sviluppare l'idea Maurice Ravelli diceva se non sbaglio parafrasando Mozart stesso che tutto quello che faceva lui è questo perfezionamento della sua tecnica e andare sempre più come dicevi tu comporre tutti i giorni come scriveva Sostakovich che scriveva tutti i santissimi giorni della sua vita che non scriveva musica scriveva una lettera poi l'indemitte che è la stessa cosa ma chiaramente ci sono tanti elementi quindi tu verti verso questa concezione dell'affinamento tecnico volendo eh sì poi non hai detto che io lo faccia io lo scusso sincero nel senso io a volte se non ho la direzione se non ho la scadenza se non ho l'occasione concreta non scrivo però è una cosa che mi sto cercando di fare proprio recentemente nel mio caso ho notato la velocità con cui scrivo in certe situazioni una volta che prendo il ritmo è proprio una settimana che sto scrivendo perché ovviamente mi sono ridotto all'ultimo momento per finire una commissione vedo che prendo proprio un ritmo e scopri delle cose perché poi comunque come diceva Berio la musica è un processo in cui tu inizi hai un piano cerchi di eseguire quel piano però poi non sai mai cosa trovi le strade e cambi direzione insomma un po' come nella vita voglio fare questo venendo da questo entro un anno succede questo e poi stai facendo scopri altre cose e quello è un po' il percorso anche dell'artista che tu stai facendo poi scopri delle cose differenti che ti interessano allora io ti rifaccio un'ultima domanda di tipo un po' più puntando verso la strazione anche se neanche tanto e poi magari facciamo un'ultima discussione riguardo alla situazione del musicista attuale anche in seguito alla pandemia e magari appunto il tuo punto di vista dall'Inghilterra può essere prezioso Morton Feldman sostiene che sia necessaria un'arte esoterica cioè che non abbia un'utilità evidente e cita due approcci invece utilitari all'arte quello di Luigi IX che vuole che l'arte cambi la società è quella di John Cage che invece vuole che la società cambi l'arte tu ti senti vicino a uno di questi due approcci o a nessuno di entrambi forse sono questa cosa di Cage vuole che la società cambi l'arte beh lui spesso e volentieri nei suoi discorsi si riferisce alle filosofie a pensieri che non sono orientali e comunque il cambiamento che ti induce l'ascolto della musica di Cage è fondamentale nella sua estetica cercare proprio di iniziare l'ascolto di un'opera che sei una persona e poi chiaramente appunto il riferimento alle filosofie orientali non è la società che cambia l'arte in quel senso è più la musica che cambia una domanda è detto nono deve essere l'artista a cambiare la società in Cage è la società che cambia l'arte che è uno diciamo come in Bachmister Fühler che lui amava citare l'idea dell'arte chiaramente la società come la intendeva lui quella che ad esempio sullo sviluppo tecnologico su tutto quanto progrediva evolveva la società in quella maniera sì doveva cambiare l'arte cioè si dovevano utilizzare i cambiamenti della società all'interno della musica non il contrario cioè se c'è uno sviluppo tecnologico bisogna tenere conto se le persone si possono muovere se lo interpretiamo in questo modo ti dico sì ti dico sì ma ti dico sì ad entrambi perché io sono una persona molto attiva politicamente e anche spesso i temi delle mie opere sono temi sociali e politici anche il brano stesso che ti ho citato con il brano per orchestra d'archi è un brano comunque politico comunque in conseguenza di un'azione politica di Brexit e delle conseguenze che ci ha avuto sulla società e l'opera come ho parlato prima parla di integrazione tra diverse culture religiosi e comunque esponeva il problema del razzismo che c'è in Italia quindi secondo me sì io sono dell'idea che l'artista deve essere insomma attivo nel tentativo di cambiare la società non necessariamente lo deve fare con la propria arte perché non sempre puoi farlo quindi non lo so la performance della fabbrica illuminata oggi come oggi non so se forse sia la cosa più adatta perché perché appunto forse l'operaio non tutti gli operai avevano gli strumenti adatti per comprendere il messaggio di Nono però sicuramente ci sono altri metodi per cercare di avere un impatto sulla società dal punto di vista artistico al tempo stesso sono sono meno importante che che si vada al passo con l'evoluzione della società con gli sviluppi appunti delle tecnologie quello sì è fondamentale e forse questo è un problema che abbiamo in certe aree di musica la storia contemporanea dove in alcuni casi non dico che c'è reticenza ma non non si non si sfruttano appieno le capacità digitali ed è forse per questo che poi che la società ci offre forse per questo che poi si sono aperti anche nuovi filoni di musica che non sono necessariamente i filoni di musica applicata penso a tutte quelle categorie di compositori alla Nils Fram e quel filone là o alla Fura Arnald che vabbè è sempre un filone nordico diciamo armonicamente non porta chissà che novità però c'è una ricerca secondo me che va più sul discorso del suono essendo che questo è il discorso del suono che che parte poi da scelsi dagli spettrali i compositori spettrali come abbiamo detto prima che lentamente sta prendendo piede anche nel mondo della musica applicatica applicatica e classe contemporanea di questi generi che ti ho detto perché alla fine il discorso di Nils Fram si basa molto sul suono sfruttando le tecnologie digitali o penso anche a compositori come Il Durgunadittur che è la compositoria islandese che ha vinto l'Oscar con Joker ma che ha fatto una serie televisiva con HBO che si chiamava su Chernobyl e in questa serie televisiva lei è andata sul set ha registrato tutti i suoni della fabbrica della centrale di risulta nucleare nella location dove stavano girando Chernobyl ha preso questi suoni e li ha modificati processati digitalmente e ha creato una sonora così in questo modo questo è sicuramente un esempio di una persona che sfrutta anche le capacità digitali che la società ci offre e riesce a dare un suono contemporaneo il lavoro è molto basato sul suono perché anche sono musica dei film insomma siamo lentamente uscendo via delle categorie standard di armonia melodia orchestrazione si va verso un percorso più legato al suono poi ovvio dipende sempre dal regista con cui collabori quindi secondo me è un discorso ambivalente io mi sento di essere d'accordo con entrambi beh la musica di cui parlavi mi faceva pensare a Yannis Xenakis che è uno di quelli che a volte viene apprezzato anche da da musicisti che non hanno formazione prettamente classica a volte anche chi si occupa di musica elettronica però al di là di questo arriviamo ad oggi dopo questa ondata pandemica c'è stato in alcuni ambiti uno stop un'interruzione dell'attività musicale culturale teatrale e ci siamo ritrovati a ognuno a trovare diverse soluzioni però anche una pausa di riflessione ora alcuni musicisti hanno anche perso il lavoro come altre categorie di lavoratori sappiamo che l'Italia ha una situazione suppongo abbastanza distinta da quella inglese di uno specifico londinese in questo senso cosa ci dici come reporter fuori dal terreno nazionale qual è la situazione? l'azione ovviamente è difficile per tutti specialmente per chi è abituato a guadagnarsi da vivere con le soluzioni dal vivo con concerti dal vivo c'è stato un altissimo numero di persone che hanno fatto le cosiddette gig serate online e inizia un po' la novità adesso è diventata una una consuetudine appunto in vista positivo ci sono state invece molte persone che hanno cercato di adeguarsi appunto a quello che c'è fra tecnologia e ci sono stati vari esempi di compositori che hanno creato pensando che una performance in zoom e tutte le complicazioni che può offrire una performance dal vivo con varie persone su zoom e per noi in dilatenza ho utilizzato queste specifiche del sistema digitale a loro vantaggio quindi ad esempio io parlo sempre quest'anno facciamo un nuovo corso di storia musica contemporanea e io parlo anche delle tecnologie digitali e porto l'esempio di un brano di un compositore italiano che vive a Parigi che ha fatto un brano per coro e questo brano vedi su zoom e nonostante il primo accordo siano tutti penso accordi omorritmici e nonostante ciò lui sa che ci sarà latenza quindi vedi che alla fine questo accordo omorritmico diventa una serie di quasi di micro polifonia la ligati perché ognuno che pensa sta entrando allo stesso momento entrano in momenti differenti spasati io stesso poi ho partecipato prendendo un altro esempio ad un digital opera festival perché qui in Inghilterra una delle tecniche artistiche si è inventata questo festival che si chiama opera harmony che è ospite di una piattaforma di opera vision di una piattaforma europea e dove ha diciamo messo insieme 20 mini teams se non sbaglio di registi di compositori musicisti e ognuno doveva creare una mini opera di massimo 10 minuti ispirata al lockdown senza mai incontrarsi quindi ognuno ha fatto tutto il suo sistema che ha registrato degli strumenti poi dopo messo insieme io nel mio caso ho preparato tutto diciamo con le mie risorse di campioni perché insomma pensavo non volevo fare una cosa più efficace in queste condizioni e poi dopo ho messo insieme registrazioni fatte da cantanti una a Berlino una in Galles una nel nord dell'Inghilterra e una a Londra e ho messo tutto insieme questo è stato fatto con i video e abbiamo poi creato queste mini opere e quindi sì diciamo che in alcuni casi ha sviluppato anche un approccio creativo alla creatività quindi come rimanere attivi nonostante le difficoltà diciamo che c'è sempre la soluzione dal punto punto di vista cioè c'è sempre una via un modo concreto diciamo per fare musica se si vuole sì se si vuole sì non vuol dire che sia semplice non vuol dire che sia la soluzione ottimale però ad esempio nel mio caso molti persone hanno detto ah perché adesso stai scrivendo che stai scrivendo no io non sto scrivendo niente gli ho detto sto prendendo questo esplicemente durante la prima fase del lockdown sto prendendo questo periodo di pausa per comunque riconsiderare altre cose della mia vita non soltanto dal punto di vista creativo ma perché fondamentalmente questa intervista verte su questo argomento i musicisti si trovano spesso in difficoltà almeno quello che ho visto io nella mia carriera spesso in difficoltà di non avere la giusta retribuzione di non trovarsi in una situazione lavorativa particolarmente conveniente o agile e diciamo che a volte viene ci si trova davanti degli ostacoli di diversa natura che possono essere anche propri autocostruiti e questo svilisce diciamo la ricerca del musicista o lo conduce verso scelte appunto musicali che poi non hanno niente a che vedere con quella ricerca che dicevamo prima dello scultore che cerca se stesso e quindi cerco di capire con i musicisti se ci sia la possibilità o la necessità di ampliare la propria attività creativa anche al di fuori del sistema economico cioè farlo in maniera libera non libera come vogliamo dire non 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 retribuita o comunque anche di incentivare i musicisti che non lo fanno di professione oppure costruire un'amatorialità creare una nuova amatorialità o distruire il pubblico diverse forme per te c'è questa necessità vedi la stessa situazione oppure vedi un altro quanto guarda è un discorso complesso è un discorso complesso perché io penso che tutte le persone che si avvicinano alla musica e poi vogliono introdurre questa carriera lo facciano per una forte passione nel quello che fanno come in alcuni casi se poi quelli rimangono a fare questo mestiere che alcuni mollano proprio come una missione di vita cioè in quel senso la musica è una missione come penso anche essere un artista dopo penso il trauma iniziale che ti rendi conto che forse non è così semplice come tu pensi e tu per esempio gli esempi di successi cerchi sempre di dire perché io no perché cosa devo fare per raggiungere quando subito quella fase poi devi capire anche quali sono le tue priorità le tue priorità nella vita personale quindi è anche un discorso di compromessi nel senso perché ci sono artisti che per esempio hanno la possibilità di mantenersi tramite l'insegnamento tramite appunto la musica applicata se non è quello che interessa che al tempo stesso lascia a loro l'opportunità di continuare a fare lo scultore di se stessi sono altri artisti che non sono interessati a questa scultura sono altri artisti che per loro è soltanto cioè prendo l'esecutore a me piace suonare Chopin e basta quello che è successo nel novecento la musica del ventesimo secolo il ventesimo secolo non mi interessa non la capisco non lo so che per me non sono molto differenti da chi magari ascolta soltanto musica leggera non c'è nessun minimo interesse ad ascoltare altre cose quindi diciamo che generalizzare è molto complicato è sempre sempre un discorso individuale io quello che dico è se una persona ha nella passione veramente per la musica la vede come una come una missione il cercare nonostante difficoltà di ritagliarsi del tempo per fare quella ricerca personale di cui parlavamo prima è importante per crescere artisticamente perché soltanto con un continuo lavoro di ricerca si può si può migliorare si può livellare quella scultura perché altrimenti il rischio è che dopo di che ci si adagia e non cambia niente ma in realtà è che la società corre molto velocemente le nuove generazioni loro crescono con nuove idee musicali e se diciamo penso che siamo super giù coetane siamo quella fascia di mezzo per cui se tu rimani rimani fermo e non fai una ricerca qualsiasi tipo di ricerca che tu possa interessare alla fine neanche te ne accorgi quello che fai è vecchio quindi se te interessa soltanto fare ciò che ti piace anche se suona vecchio non c'è problema se sei interessato a far sì che comunque la tua voce si evolva sempre tu citare Stravinsky Stravinsky ha cercato di attraversare diversi stili poi c'è chi lo apprezza c'è chi non lo apprezza non solo come Adorno che considera Schemberg Dio e Stravinsky e il diavolo ma insomma sono punti di vista e ovviamente ha fatto il suo percorso Stravinsky comunque a delà del percorso artistico non dimentichiamoci non negavano anche il discorso economico era molto attento a questo quindi cioè smigniamo anche l'idea che per essere artista bisogna essere soltanto un bohemian non è così insomma la musica è un mestiere ovviamente a differenza d'altri mestieri ha una forte componente artistica e quindi ci sta che non sia così semplice come si pensa beh benissimo mi sembra un quadro particolarmente chiaro cosa cosa prevedi per i prossimi mesi diciamo dal punto di vista musicale per il mondo o per me ma diciamo per te dai che poi non ti riesco a portare troppo verso l'astratto mi ritorni sempre nella concretezza perché secondo me bisogna essere anche un po' concreti ad un certo punto no per me cosa prevede appunto questa esecuzione spero e ci tengo insomma che un brano per coro coro misto insomma molto interessato dovrebbe avvenire in estate a verona e in autunna a budapest e dopodiché dovrei appunto dirigere un concerto in musica contemporanea a malta ad aprile sempre che si possa fare e poi sto lavorando a un secondo progetto mio personale e quindi sto appunto quello che ti dicevo di cercare di scrivere tutti i giorni sto mettendo buttando giù idee e lavorando però cercando di fare un discorso artistico differente rispetto all'album precedente quindi sto cercando di studiare un po' di più insomma le tecnologie digitali come implementare come implementarle nel mio lavoro creativo benissimo benissimo siamo quindi in attesa delle tue nuove produzioni Dimitri io ti ringrazio molto in questa in questo impegnativo lunedì di fine gennaio mi dispiace che ti ho portato troppo per terra no no io ho sempre ho sempre bisogno di ricondurmi della zavorra capisci grazie del tuo tempo della tua disponibilità ti auguro di lavorare sempre alla grande come stai facendo in Inghilterra e speriamo di vederci anche qui nella capitale della nostra cara si potrà viaggiare sicuramente benissimo grazie a presto ciao grazie a tutti Grazie.